Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, controlli dei carabinieri nel fine settimana nei comuni di Civitella in Val di Chiane, Monte San Zavino, con particolare attenzione agli orari serali e notturni. Durante le attività, gli operatori hanno identificato un centinaio di persone e controllato numerosi esercizi commerciali e luoghi di aggregazione. Sono scattate due denunce per guida in stato di ebrezza alcolica. Una persona invece è stata segnalata perché trovata in possesso di due grammi di cocaina per uso personale. Elevate poi sette contravvenzioni, ritirate due patenti e sequestrata anche un'auto. Un furto invece nella fine settimana è stato messo a segno durante le celebrazioni per un matrimonio. Si tratterebbe del secondo ride in poche settimane, compiuto proprio mentre gli sposi stavano festeggiando. È successo nel parcheggio di un relè nel comune di Capolona. I malviventi si sono intrufolati nel parcheggio dove si trovavano le auto degli invitati. Due le vetture che sono state assaltate sono stati portati via anche tutta l'attrezzatura di un fotografo a mettere in fuga i ladri, la presenza di un'invitata. L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine che stanno indagando sul caso. Atti vandalici invece nel parcheggio sotterraneo di Piazza del Popolo, dove alcuni giovani si sarebbero introdotti ed avrebbero concentrato le proprie attenzioni verso gli estintori presenti in appositi spazi come previsto dalla normativa vigente. Dopo averli asportati, li avrebbero aperti e ne avrebbero scaricato il contenuto sulla carrozzeria delle auto in sosta. In corso adesso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine. L'episodio sarebbe stato infatti immortalato dalle telecamere di videosorveglianza. Voltiamo pagina, prosegue l'ondata di maltempo in Toscana. È prevista la pioggia su tutta la regione per l'intera giornata di domani, mercoledì 27 marzo. Una vasta aria depressionaria interessa il Mediterraneo centro-occidentale, con tempo perturbato previsto anche in Toscana. La sala operativa della protezione civile regionale ha così emesso un codice giallo per rischio idrogeologico ed idraulico del reticolo minore, con validità dalle 8 alla mezzanotte di domani, esteso su tutta la regione. E adesso ci spostiamo in Via Romana, una zona interessata da molti disagi in caso di maltempo. Ieri nella sala parrocchiale della chiesa di San Marco, il Comune ha incontrato residenti e commercianti per rappresentare i lavori dell'8-2 per l'adeguamento del sistema fognario. Più volte sotto gli occhi di residenti e commercianti di Via Romana ad Arezzo si è palesato questo scenario, senza peraltro precipitazioni piovose particolarmente importanti. Dopo un primo intervento, l'amministrazione comunale ha incontrato residenti e commercianti per la presentazione dei lavori che dovranno appunto mitigare il rischio idrogeologico. Si tratta del secondo lotto per l'adeguamento del sistema fognario che partiranno entro il mese di aprile. La nuova condotta si svilupperà a lungo Via Romana dall'incrocio con Via Ugo Foscolo fino al centro di aggregazione sociale di San Marco la Sella, attraversando Via Dante andrà a recapitare le acque del torrente Sellina. È prevista di fronte al centro di aggregazione sociale la realizzazione di una camera di spinta necessaria all'esecuzione di due tratti di microtunneling di circa 100 metri. Per questo lavoro si prevede l'ingombro dell'intera carreggiata. Nei tratti invece da realizzare con scavi a cielo aperto, lungo Via Romana fino all'incrocio con largo pontalto, la fascia di scavo sarà contenuta nella corsia in uscita dalla città, ma la strada sarà comunque chiusa al traffico. L'importo totale dei lavori è di un impegno di circa 1 milione e 300 mila euro. I commercianti hanno chiesto di contenere per quanto possibile i disagi legati al cantiere. Da parte dell'amministrazione c'è stata la piena disponibilità ad un approfondimento e ad una previsione di un incontro con le categorie economiche dopo Pasqua. E adesso sentiamo invece l'appello di alcuni cittadini, un appello che arriva da Via 25 Aprile. Quelle che vedete in queste immagini sono infatti le condizioni dei cassonetti, rifiuti che non sarebbero stati raccolti da alcuni giorni e così si alza la protesta dei cittadini che risiedono nella zona. Una problematica fanno sapere che ormai ciclicamente si ripete da alcuni mesi. E continua a tenere banco anche la questione dell'ex aria Lebole, ad intervenire tramite una nota adesso a Italia Viva. Oggi purtroppo l'azienda per anni simbolo e vanto del territorio è la testimonianza dell'abbandono e degrado che accoglie coloro che entrano in città, dichiarato Gianni Ulivelli. Ci si accorge del problema dell'area Lebole ridotta a un luogo di bivacco per abusivi e clandestini quando i fatti di cronaca occupano le prime pagine dei giornali destando l'attenzione anche di chi per ruolo dovrebbe prevenire il degrado. In conclusione, dichiara Gianni Ulivelli, riteniamo che solo la stretta e fattiva collaborazione tra amministrazione comunale e proprietà che possa mettere le basi alla soluzione del problema di quell'area. Tra bitume e biologico invece è il titolo di un'iniziativa pubblica sul futuro di Gricignano. Ad organizzarlo il comitato Salviamo la campagna di Gricignano e la proloco della frazione dove dovrebbe sorgere un impianto di produzione di conglomerati bituminosi nell'area di Ciapanella. Se ne parlerà venerdì 5 aprile alle 21 alla Casa del Popolo. E adesso l'economia. È una 2023 da dimenticare per il terziario toscano che conta 8200 aziende in meno. È un terziario con il fiato sospeso, quello che emerge dall'ultima indagine condotta da Format Research per Conf Commercio Toscana per tracciare un consuntivo del 2023. Le imprese toscane di commercio, turismo e servizi stanno provando a reagire con tutte le loro forze nonostante le nubi che oscurano il quadro macroeconomico internazionale. Ma i segnali della crisi ci sono. Diminuisce il saldo tra aziende nuove nate e cessate, si riducono ricavi ed occupazione, cala ovviamente la fiducia nell'andamento dell'economia e della propria attività, riassume il direttore generale della Conf Commercio Toscana, Franco Marinoni. La situazione è cambiata dal secondo semestre 2023 dopo gli effetti euforici della ripresa post-pandemica. La previsione degli operatori per il primo semestre 2024 è di sostanziale stabilità con cenni di cauto ottimismo, soprattutto nei comparti turismo e ristorazione, che confidano nell'arrivo della bella stagione dei turisti internazionali per riprendere lo slancio, ma preoccupare anche la difficoltà dell'impresa a far fronte al proprio fabbisogno finanziario e allo stesso tempo ricorrere agli istituti di credito. Il terziario in Toscana rappresenta il 66% delle oltre 281.000 aziende extraagricole attive a livello regionale. Nel confronto 2023-2022 è leggermente aumentato il numero delle nuove imprese iscritte agli elenchi camerali, ma è aumentato anche quello delle cessazioni. La nata immortalità presenta dunque un saldo negativo, in peggioramento rispetto al 2022. Ancora economia, il gruppo finita l'acquisito da Facile.it. È stato infatti acquisito il 100% della storica realtà imprenditoriale a retina che da decenni opera nel settore dell'intermediazione assicurativa con riferimento a segmenti auto, rami elementari, rischi speciali e flotte. Ed il Comune di Arezzo invece aderisce alla giornata nazionale per la consapevolezza sull'endometriosi che ricorre giovedì 28 marzo partecipando alla quinta edizione della Call to Action Facciamo luce sull'endometriosi promossa dall'Associazione Alice ed illuminando di giallo il monumento dedicato a Piero della Francesca. Ed ancora salute, l'ospedale della Fratta si configura sempre più come ospedale per interventi odontoiatrici per bambini con bisogni speciali ma anche neonati. Risale infatti ad un mese fa l'intervento su un neonato di 20 giorni necessario a rimuovere un dentino, un incisivo inferiore che stava provocando la lesione sulla lingua del piccolo e dolori alla madre durante l'allattamento. Si tratta del primo intervento di questo tipo effettuato all'ospedale della Fratta su un neonato di pochi giorni. Oltiamo pagina. Questa mattina inaugurazione all'Istituto Comprensivo Vasari di una panchina rossa per dire stop alla violenza sulle donne. L'amore crea rispetto, gentilezza, dignità, vita. Sono queste le parole che gli studenti della Scuola Media Giorgio Vasari di Arezzo hanno deciso di scrivere sulla panchina rossa inaugurata nel resede dell'Istituto Scolastico. È compito della scuola istruire, educare, formare le giovani generazioni ad una cittadinanza consapevole ed attiva. E muovendo dai fatti di cronaca, muovendo dalle situazioni che erano successe diciamo negli ultimi tempi, abbiamo coinvolto i ragazzi e i ragazzi sono stati a loro volta molto sensibili e partecipi come protagonisti di queste attività. Come ogni panchina rossa simboleggia il posto vuoto lasciato dalle donne vittime di violenza, un fenomeno purtroppo in continua crescita. La cosa più entusiasmante da parte anche dell'associazione del centro antiviolenza che spesso fa interventi scolastici è proprio la curiosità, la capacità dei ragazzi e delle ragazze di comprendere una tematica e anche la sete che hanno di risposte perché è un problema che in qualche maniera li tocca in maniera diretta o indiretta per cui avere delle risposte significative e che abbiano anche un contenuto corretto proprio da un punto di vista di trasmissione del messaggio è fondamentale. I ragazzi sono il futuro e è in mano a loro il potere del cambiamento. Come Polizia di Stato abbiamo e la inaugureremo tra poco allestito una sala d'ascolto proprio per cercare di non essere visti come chi reprime ma di essere visti come non poliziotti ma come persone che ascoltano nel chiuso di una stanza che non è tipica di polizia ma è piena di fiori e di alberi per poter immogliare a denunciare. Nell'occasione è stato anche premiato il miglior cartellone frutto del lavoro delle varie classi dedicato al tema dell'amore come valore da coltivare contro ogni violenza. I lavori che hanno realizzato hanno colto perfettamente lo spirito di questa giornata quindi una grande attenzione all'amore inteso per come deve essere inteso quindi un amore che è il rispetto che è prendersi cura dell'altro e che non è mai prevaricazione e che non è mai violenza. Sono oltre 1800 i visitatori che hanno ammirato da vicino la leggenda della Vera Croce nel corso delle visite straordinarie all'altezza di Piero e adesso conclusi i lavori di manutenzione già sold out per la riapertura. È il 28 di marzo la data prescelta per la riapertura degli affreschi di Piero della Francesca il ciclo della leggenda della Vera Croce conservato nella Cappella Bacci ad Arezzo. Le visite sono già state prenotate ma ancora non si parla di sold out dopo il periodo dunque di manutenzione conservativa adesso si stanno smontando i ponteggi per consentire le visite in maniera tradizionale durante l'intervento durato circa due mesi c'è chi si è potuto mettere letteralmente all'altezza di Piero così infatti si intitolava la straordinaria iniziativa a cura della direzione regionale dei musei della Toscana che per l'occasione aveva deciso di allestire un ponteggio accessibile per consentire di ammirare il ciclo di dipinti murali da una prospettiva decisamente inedita terminato l'intervento gli affreschi tornano visitabili saranno aperti tutti i giorni tranne la mattina della Santa Pasqua per consentire le celebrazioni religiose all'interno della Basilica di San Francesco visite e aperture straordinarie anche per la Casa Museo Ivan Bruschi che organizza aperture nei giorni di Pasqua e Pasquetta durante i quali sarà possibile godere di una visita guidata anche alla nuova mostra la libera maniera arte astratta e informale nelle collezioni intesa San Paolo a Castiglion Fiorentino invece qualche anno fa è stata riprodotta la statua della Cristo preso alla colonna simulacro che viene portato in processione mercoledì santo e ora la misericordia di Castiglion Fiorentino ha un altro obiettivo riportare gli antichi splendori in la soffitto della chiesa della buona madre già San Silvestro il restauro partirà dopo le festività pasquali e durerà circa otto mesi e le suggestioni e le emozioni della Pasqua tornano in scena anche a San Zeno il piccolo paese alle porte di Arezzo sede della 39esima edizione della Passione di Cristo dalle 21 di venerdì 29 marzo rinnoverà un grande spettacolo volto a far rivivere momenti personaggi di allughi e d'ambientazioni del Calvario di Gesù terminato con la crocifissione adesso andiamo a Cortona dove Anna Cherubini ha presentato il suo libro sulla mistero di Emanuela Orlandi sono cresciuta nello stesso posto in cui è cresciuta lei nello stesso contesto ho frequentato la sua stessa scuola di musica abbiamo avuto i nostri padri sono stati colleghi di lavoro e abbiamo calpestato gli stessi San Pietrini del Vaticano e della zona San Pietro centro storico era una zona meravigliosa è tuttora pensavamo che fosse un luogo principesco che fosse un luogo speciale siamo state delle privilegiate poi un giorno qualcosa si è interrotto è successo il 22 giugno dell'83 il mistero impenetrabile della sparizione di Emanuela Orlandi tocca da sempre le corde di Anna Cherubini dopo anni di riflessione sceglie di affidare ad un romanzo quelle emozioni sono entrata alla stessa sua scuola di musica prendendo il suo posto e mi sono chiesta per tutti quegli anni mi sono chiesta potevo essere io la ragazza che non è tornata a casa quella sera diventeremo amiche ripercorre la sua storia quella della sua vita trascorsa frequentando gli stessi luoghi e le stesse persone della famiglia Orlandi io volevo parlare di lei di Emanuela quindicenne uscita di casa un pomeriggio di giugno per andare a lezione di flauto e canto corale e mai tornata a casa l'incontro con Pietro Orlandi che anni prima l'aveva contattata alla ricerca di un fil ruso per la verità su sua sorella diventa la scintilla che muove i fili delle pagine di Anna Cherubini un giorno ho deciso di rispondere a Pietro che mi aveva scritto anni prima per chiedermi ma cosa diceva tuo padre di Emanuela mio padre diceva tante cose ma non cose che purtroppo potessero rivelare un segreto e ho deciso di rispondere a Pietro e decidendo di rispondere a Pietro ho deciso anche di scrivere il libro è un libro diverso dal solito mi ha colpito tantissimo perché cioè in questo libro a differenza di tanti altri non si parla di inchiesta non si fanno ipotesi secondo me dà tantissimo questo libro alla storia fa parlare anche Emanuela che solitamente non appare c'è sempre ricordano Emanuela studiava musica Emanuela studiava pianoforte flauto invece nel libro Emanuela dice ah io studio musica faccio quindi ha restituito voci ad Emanuela sono passati 40 anni e la famiglia Orlandi non perde la speranza che la verità venga prima o poi a Galla beh quest'anno ci stanno tre inchieste aperte qualcosa deve uscire per forza partita l'altra settimana la commissione parlamentare di inchiesta io sono convinto che quest'anno si faremmo dei passi avanti sono sicuro una lezione concerto aperta al pubblico con una protagonista d'eccezione Katia Ricciarelli l'evento è in programma per giovedì 28 marzo alla Camu la casa della musica di Arezzo nell'ambito delle stanze dell'opera un percorso di specializzazione operistica e avvicinamento alla lirica promosso dalla fondazione Guido d'Arezzo e con la direzione artistica del maestro Mario Cassi sempre in città la galleria di piazza San Francesco ospita invece la mostra Sergio Lombardo una programmatica differenza si voleva creare l'uomo del futuro l'uomo nuovo un uomo che non poteva pensare e sentire così con il sentimentalismo paternalistico e diciamo repressivo che c'era stato finora sfaccettato e camaleontico critico d'arte psicologo sperimentale fondatore della teoria eventualista Sergio Lombardo protagonista alla galleria di piazza San Francesco con la mostra Sergio Lombardo una programmatica differenza a cura di Moira Chieverini e Simone Zacchini c'era una visione molto ristretta questa visione era completamente scandalizzata rispetto alle nostre attività che invece erano già sull'azione sul rapporto col pubblico e soprattutto attraverso la stimolazione del pubblico a reazioni non tanto di coinvolgimento amichevole quanto proprio di provocazione a fare o ad agire esteticamente l'esposizione ripercorre la lunga carriera di uno dei protagonisti centrali sia come artista che come teorico dell'avanguardia italiana degli ultimi 60 anni oggi le problematiche sembrano essere quelle dell'intelligenza artificiale della scienza che io avevo già proposto fin dagli anni 50 alla fine degli anni 50 quando ho cominciato perché volevo fare un'arte scientifica quindi nel futuro si dovranno creare una nuova estetica che non può essere semplicemente l'uso dell'intelligenza artificiale ci vuole la creatività umana e la grande apertura mentale ma soprattutto i maestri l'esposizione ospitata sino al prossimo 2 giugno rientra nell'ambito del progetto Galleria Aperta organizzato dalla fondazione Guido d'Arezzo e dall'associazione culturale le nuove stanze Magonza col patrocinio del ministero della cultura dimostra che a volte il ruolo del pubblico è supportare il privato e dargli quel quantum che manca per fare un ottimo lavoro 20 coperte di lana dalla casa di riposo Fossombroni alla Calcit lo storico istituto cittadino ha infatti rinnovato la propria adesione al progetto Mani e Cuore per il Calcit negli ultimi mesi ha ospitato una vera e propria maratona di cucito dove alcuni ospiti si sono messi ai ferri per portare il loro contributo ai bisogni del territorio percorso che troverà compimento domenica 26 maggio quando Piazza Grande sarà tappezzata e colorata da una distesa di oltre mille coperte realizzate dai volontari di tutta la provincia a Castiglion Fiorentino invece è tornato il gran galà dello sport che ha registrato successo di pubblico accogliendo sul palcoscenico del teatro comunale Spina una vera parata di campioni giovani talenti professionisti di spicco legati al mondo dello sport organizzato dal comune con la collaborazione della fondazione Ferplemi Narini e il patrocinio del coni del ministero per lo sport e i giovani l'evento come sempre ha celebrato i valori dell'etica e della sana pratica agonistica attraverso la consegna di 10 premi intitolati alla memoria di altrettanti personaggi entrati per le loro imprese nell'Olimpo dello sport tra i premiati Ernico del Prato Andrea De Marchi Tiago Molta Gianni Buglio ma anche Enrico Chiesa e il castiglionese Gioele Meoni e adesso il basket l'AMMBC Servizi torna di nuovo in campo per il turno infrasettimanale l'AMMBC Servizi di nuovo in campo a Tortona per il turno infrasettimanale mercoledì 27 marzo alle 21 al palazzetto Camagna e a Maranto saranno impegnati nella prima giornata di ritorno della seconda fase contro i padroni di casa della Gulliver d'Ertona recuperati tutti i giocatori rispetto alla gara di andata e conquistate le finali nazionali con l'Under 19 eccellenza Tortona si presenta come un avversario molto ostico e desideroso di reagire dopo la sconfitta con il minimo scarto subita da Quarrata nell'ultimo turno il trio Enrico Tandia e Jokovic assente ad Arezzo viaggia ad oltre i 10 punti di media realizzati e garantisce molta fisicità e pericolosità offensiva alla squadra guidata da coach Anzaloni in casa a Maranto in miglioramento le condizioni di Giannicelli dopo la distorsione alla caviglia che non gli ha permesso di essere nelle migliori condizioni a Varese per il resto coach Evangelisti fa raffidamento sulla rosa che sabato scorso ha sbancato il palacampus di Varese l'appuntamento per il turno infrasettimanale che precede la pausa per le festività pasquali è dunque per mercoledì alle 21 al palazzetto Camagna di Tortona quando si sfideranno Gulliver, Dertona Baseball Lab e Amembici Servizi Arezzo le ragazze della Fioretto del circolo schermistico Aretino Lucia, Virginia Lorito, Camilla Rossi Giulia Poggio ed Emma Toscanini con un bronzo alle nazionali di scherma di Piacenza dello scorso 21 marzo siglano la promozione in serie A2 ancora un successo per lo sport Aretino commenta l'assessore Federico Scapecchi successo che aiuta lo sport ad affermarsi tra i giovani come elemento fondamentale educativo al confronto e al controllo e la Ginas di Capetrarca invece ha vinto un titolo toscano con Giulio Bartalini il giovane atleta nato nel 2012 è sceso in pedano a Livorno nella seconda ed ultima prova del campionato individuale regionale Gold dove ha meritato il gradino più alto del podio nella categoria allievi quarta fascia questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci